Ciao ragazzi, come state? Spero benone. È la quarta volta che sto cercando di registrare questo video e quindi sono abbastanza... NEVROTICO! Allora, mi si interrompe sempre, boh. Speriamo che questa sia la volta buona. Sono ancora positiva, giovedì prossimo rifaccio il test, il tampone. Sto bene, ho solo un forte raffreddore e basta. Non ho febbre, non ho problemi respiratori. Non sento più gli odori e i sapori. Questa è una cosa che mi hanno detto che potrà andare avanti per un po', ma sto bene fisicamente, ripeto. Scusate la voce un po' di naso e aspetto solo di tornare ad essere negativa. Oggi parlo degli oleoliti e rispondo e dedico questo video a Simona Bonetti. Ciao Simo, ti ringrazio perché mi hai dato questo spunto, ti ringrazio perché mi segui e questo video è principalmente per te. E poi lo dedico a Ivana Ventura che già mi aveva detto che era interessata a questo tipo di argomento. Infatti ho già fatto un video, però, dove ho parlato in maniera generica, generale, degli oleoliti. Qui voglio parlare di tre tipologie di oleoliti che possiamo fare tranquillamente a casa, noi, che sono fantastici, veramente fantastici, che hanno delle proprietà, puntini, 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 adesso ve ne parlerò. Allora, intanto, come si fanno gli oleoliti? Si lascia macerare dei fiori, degli estratti, all'interno di oli vegetali naturali. Dopo si filtra l'olio e si ottiene l'oleolito. È un qualcosa che possiamo fare tranquillamente da casa, in maniera molto easy. Perché sono fantastici gli oleoliti? Perché, siccome sono costituiti da estratti, poi ne parliamo, ma soprattutto sono costituiti da oli vegetali naturali, qualsiasi sia la proprietà dell'olio lito specifico, trattandosi comunque di olio vegetale naturale, noi comunque diamo una sferzata alla pelle di proprietà che fanno comunque già bene, perché l'olio vegetale naturale, per esempio, rassoda la pelle. Indipendentemente dal perché abbiamo fatto quell'oleolito con quell'estratto, già comunque stiamo rassodando la pelle, con l'utilizzo di un olio vegetale naturale. Allora, parliamo di questi tre di cui voglio parlarvi oggi. Oleolito all'edera, anticellulite, stupendo. Come si fa? Si fa come tutti gli oleoliti. Si prende un barattolo di vetro, che poi si deve chiudere. In questo caso, essendo un olio che utilizzeremo sul corpo, perché è per la cellulite, usiamo l'olio d'oliva. Prendiamo un bicchiere di acqua, sapete quelli normali, il misurino di bicchiere d'acqua, lo riempiamo di olio d'oliva, prendiamo l'olio d'oliva, lo mettiamo nel barattolo di vetro, che poi andrà chiuso. Prima di chiudere il barattolo di vetro, ci infiliamo dentro 15 foglie di edera. Essiccate le foglie, ok? Non essiccate le foglie, ok comunque. 15 ne mettiamo dentro. Poi chiudiamo il barattolo, lo agitiamo un po', prendiamo il barattolo e lo lasciamo 15 giorni fuori alla luce del sole. Ok, poi c'è la notte, quindi il sole non ci sarà più, però lo lasciamo 15 giorni alla luce del sole. Passati questi 15 giorni, apriamo il barattolo, si filtra l'olio, che a questo punto è un oliolito, ok? Lo abbiamo ottenuto il nostro oliolito all'edera, che andremo a utilizzare per i massaggi contro la cellulite, per contrastare la cellulite. Siccome abbiamo usato olio d'oliva, ne basterà poco per i massaggi, non dobbiamo impastrugnarci tutte, ok? Avremo le proprietà dell'edera, proprietà anticellulite forti dell'edera, ma contestualmente avremo comunque le proprietà rassodanti dell'olio d'oliva, ok? E questo è uno. Poi per esempio oliolito di iperico o iperico. Questo è un doposole stupendo e aiuta anche a lenire e curare le ustioni e le scottature, però anche già come doposole è fantastico. Usiamo in questo caso un altro tipo di olio naturale vegetale, per esempio l'olio di mandorle, perché l'olio d'oliva ingrasserebbe troppo, un po' grasso, no? Quindi l'olio di mandorle, oppure un qualsiasi altro olio naturale vegetale che voi volete, lo scegliete voi. Sempre, lo usiamo magari un po' di meno, sapete il misurino d'acqua? Acqua nel senso dei bicchieri d'acqua, lo riempiamo solo un quarto o metà di olio di mandorle o di qualsiasi altro olio naturale, ok? Vegetale. Mettiamo questo olio di mandorle dentro al barattolo di vetro, ci mettiamo dentro 5, 6, anche 7 fiori di iperico o iperico, chiudiamo il barattolo e lo teniamo 15 giorni alla luce del sole. Finiti i 15 giorni terminati, noi prendiamo il nostro barattolo, lo apriamo, filtriamo l'olio, in questo caso l'olio di mandorle o quell'olio che avete utilizzato, e abbiamo ottenuto l'olio lito di iperico, fantastico come dopo sole, ne basta pochissimo, ed essendo olio, non solo avrà le proprietà, in questo caso, di dopo sole, ma rassoderà la pelle, e sarà molto facile da far penetrare, molto più che una crema, potrà essere utilizzato come dopo sole, oppure per curare ustioni, ovviamente non di terzo grado, ma piccole ustioni che possiamo provocarci lavorando, stirando, cucinando, e scottature, e questo è uno. Vi parlo dell'ultimo oleolito che è fantastico, perché ha tre proprietà, in un unico prodotto ne ha tre fantastiche, contro le rughe, contro le macchie della pelle, e in più rassoda tantissimo la pelle, quindi assolutamente serve per ringiovanire la pelle, ok? Allora, oleolito di tarassaco, o tarassaco, 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 chiamatelo come volete, purtroppo con gli accenti non sono il massimo, ma quello è. Cosa si fa? Olio vegetale naturale, io consiglio l'olio di mandorle, perché a me piace l'olio di mandorle, qualsiasi altro olio, basta che sia vegetale naturale, sceglietelo voi. Misurino, bicchiere d'acqua, la riempiamo a tre quarti, ok? Prendiamo questo olio vegetale naturale, per esempio l'olio di mandorle, e lo mettiamo nel solito barattolo di vetro, ok? Ci infiliamo dentro sei fiori di tarassaco, ok? E chiudiamo il barattolo di vetro, lo agitiamo, e lo mettiamo sempre alla luce del sole, per quindici giorni, dopodiché andiamo ad aprire il barattolo, filtriamo l'olio, e abbiamo ottenuto il nostro oleolito di tarassaco, che ha queste proprietà, contro le rughe, aiuta a prevenire le rughe, e a allenire quelle esistenti. È in grado di eliminare le macchie, ok? E questo è fondamentale. In più, essendo un olio, rassoda la pelle. Quindi, cioè, allucinante, ha tre proprietà in una. Noi potremmo fare anche altri oleoliti, praticamente utilizzando, come vi ho detto, oli naturali, vegetali, molto buono l'olio d'oliva, però per esempio sul viso, non tanto lo utilizzerei più per oleoliti, che servono per curare, o operare, diciamo, fare trattamento sulla pelle del corpo, ok? Per esempio, a me piace, ripeto, l'olio di mandorle, per il viso uso quello, però potete usarne, usare quello che volete voi, di olio naturale vegetale. E si fa essiccare dentro, praticamente, macerare dentro, un estratto. Per esempio, si può fare l'oleolito all'estratto di limone, che ha delle proprietà sempre schiarenti, però va utilizzato poi solo la sera, non bisogna mai mettere nulla sul viso antimacchia, schiarente, prima di uscire, ed è giorno, intendo dire, bisogna assolutamente utilizzare tutti i prodotti, a base di estratto di limone, limone, che sono schiarenti, e antimacchia, solamente di sera, prima di andare a letto, perché non bisogna essere a contatto con, la luce del sole, altrimenti ci si macchia di più. Quindi si può fare in che modo? Si prende un limone, si taglia pezzettini, e si lascia, combuccia anche 15 giorni, sempre nel solito barattolo, dove abbiamo messo prima, olio di mandorle, o qualsiasi altro olio vegetale naturale, lo si lascia per 15 giorni chiuso, esposto alla luce del sole, dopodiché si filtra l'olio, e si ha questo tipo di estratto. C'è chi fa cuocere anche, c'è l'olio, nel senso che per, ci sono diverse tipologie di, modi per creare l'olio lito, c'è anche chi lo fa cuocere, nel senso che mette in un pentolino, l'olio d'oliva, o l'olio di mandorle, o l'olio comunque vegetale naturale, che avete scelto, ci fa cuocere dentro, l'estratto per esempio di edera, o i fogli di perico, o i fogli di terassaco, o quello che volete mettere, o i limoni, poi filtra, poi sposta tutto l'olio vegetale naturale, con dentro l'estratto, lo sposta in questo barattolo di vetro, lo chiude, lo tiene 15 giorni, sposta alla luce, ok, e alla fine, poi passati 15 giorni, si filtra, e si ha, si ottiene l'olio lito, come lo vogliamo praticamente, con le proprietà dell'estratto, che ci abbiamo messo dentro, si può fare in entrambi i modi, ok, sia cuocendo, tra virgolette, l'estratto nell'olio, per i primi 5 minuti, neanche 3-4 minuti, oppure invece, si può fare anche senza, il fatto della cottura, diciamo, direttamente l'estratto, nel barattolo, di olio vegetale naturale, come per esempio, l'olio di oliva, oppure per esempio, l'olio di mandorle, io sono fissata con l'olio di mandorle, e lo si mette, ve l'ho detto, chiuso, esposto alla luce del sole, questi sono, esempi, sono tre, abbiamo fatto l'olio lito all'edera, anticellulite, l'olio lito di Iperico, che serve come dopo sole, e per curare costioni scottature, e fondamentale, come antirughe, antimacchia, e ovviamente rassoda la pelle, è l'olio lito di Tarassaco, queste sono tre tipologie, che possiamo fare tranquillamente noi a casa, ripeto, siccome si parla di estratti, e di olio vegetale naturale, l'assorbimento da parte della pelle, è immediato, i benefici sono tantissimi, ma soprattutto, c'è il discorso che l'olio, nutre la pelle, quindi insieme al bene che ci fa, quel tipo di oliolito, perché abbiamo scelto quell'estratto, comunque indipendentemente dall'estratto che abbiamo scelto, comunque ci rassoda la pelle, perché stiamo usando degli oli vegetali naturali, poi abbiamo altre proprietà, in base ai fiori che ci mettiamo dentro, all'estratto che ci mettiamo dentro a macerare, ok? Sono assolutamente prodotti naturali, fantastici, che se utilizzati col tempo, portano realmente a risultati fantastici, ve lo posso garantire, saluto ancora Simona Brunetti, e Ivana Ventura, che mi hanno dato lo spunto per questo tipo di argomento, e se avete altre domande, volete che faccio, che parlo di altre tipologie di olioliti, che si possono fare, o se avete qualsiasi altra tipologia di argomento, che volete che affronto, che propongo insieme a voi, ditemelo, io sono qua, un bacione grandissimo, ciao, 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 Grazie a tutti